All'inizio l'impianto era stato installato, come vi ricorderete, a semaforo, quindi avevamo praticamente nell'uscita dalla chiesa un semaforo, di conseguenza bloccava tutta la circolazione sul provinciale, poi vi erano stati messi dei limitatori di velocità, quindi chiaramente la situazione che si era venuta a creare era una situazione di difficoltà, considerato la mole di traffico che in certi momenti di punta viene attraversata, interessa all'intersezione e all'incrocio. Non era il nostro obiettivo questo, il nostro obiettivo era di mettere in sicurezza i pedoni, quindi due erano gli obiettivi dell'amministrazione comunale, uno era di realizzare un marciapiede e due di consentire l'attraversamento in sicurezza dei cittadini di Ponte Selva. Io voglio ricordare, mi permetto di ricordare che è una frazione molto importante del Comune di Parre, è una frazione che ha una presenza di circa 500 persone, quindi vi è un grosso movimento pedonale e dobbiamo ricordare che ci sono alcune attività e quindi è una frazione completamente inserita in un contesto viabilistico difficile, quindi la scelta dell'amministrazione era appunto quella, ribadisco, di mettere in sicurezza i pedoni. Adesso l'impianto funziona a lampeggio, viene interessato alcune volte soltanto quando vi è qualche pedone che vuole attraversare. Io voglio precisare ancora un'altra cosa che anche prima il pedone attraversava, però attraversava veramente, è considerato la larghezza della strada, con molte difficoltà, specialmente i bambini e le persone più anziane. Non era giusto così, se si perde un secondo, non so se si perde perché comunque attraversavano anche prima, però è giusto anche dare questa opportunità alle persone della selva ad usufruire dei luoghi. Io credo che tutto sommato la situazione sia normalizzata, anche qualcuno ha sollevato il discorso relativo ai due attraversamenti. Noi bisogna pensare che nel contesto della selva ribadisco abbiamo una forte presenza di pedoni e abbiamo per esempio la distanza dei due passaggi pedonali superi 100 metri, quindi non è poco. Il secondo lotto prevederà il marciapiede fino a Ponte Nossa e il terzo, finalmente entro il 15 aprile avremo le offerte delle ditte, abbiamo fatto il bando e avremo la realizzazione della fognatura. Penso che nell'ambito del 2010 l'opera dovrebbe essere completata nei primi mesi del 2011. Anche per la realizzazione della fognatura cercheremo tutti i modi per effettuare i lavori in modo da evitare difficoltà per il traffico veicolare.